Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. In onda oggi, domenica 1 dicembre, il nuovo episodio di, Alessandro Borghese 4 Ristoranti, ci conduce tra i paesaggi naturalistici dei Colli Bolognesi. Partendo dai deliziosi tortelloni, passeranno in rassegna tutte le specialità culinaria della zona. Quattro ristoratori si daranno battaglia ma, come sempre, soltanto uno potrà aggiudicarsi la gara. Alessandro Borghese 4 Ristoranti, anticipazioni Puntata dell'11 dicembre La zona dei Colli Bolognesi fa da sfondo all'odierna gara culinaria di Sky. Alessandro Borghese si ferma alle porte del capoluogo Emiliano, pronto ad immergersi tra le tante bontà gastronomiche di un luogo da sempre affezionato all'arte culinaria. Da ormai qualche anno anche la tradizionale cucina Emiliana ha subito rivisitazioni in chiave contemporanea di piatti che hanno fatto la storia della cucina, non solo locale. Al centro dell'attenzione nella puntata in onda oggi, 11 dicembre, su Sky c'è il tortellone, special di giornata e quintessenza della pasta fresca bolognese. A preparare tortelloni e molto altro saranno Alex del, Antica Ostaria Rocca di Badolo, Margherita del, Agriturismo K, Lunati, Daniele del K, Shin, Antonio del, Trambia. Le regole sono quelle di sempre, ogni ristoratore deve assegnare dei voti da 0 a 10 ai tre sfidanti. Le categorie da giudicare sono Location, Menu, Servizio, Conto e Categoria Special. Sul finire della puntata, Alessandro Borghese può confermare o ribaltare la classifica provvisoria. Soltanto un'attività potrà aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante per una fuga sui colli bolognesi. Dove vedere, Alessandro Borghese 4 Ristoranti, 11 dicembre 2022. La terza puntata stagionale di, Alessandro Borghese 4 Ristoranti, va in onda oggi, 11 dicembre, su Sky 1, canale 108 di Sky, a partire dalle 21. 15. Il programma è inoltre visibile su NowTV per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.